Salve a tutti Blazers e bentornati nella serie di sopravvivenza Ovviamente, ovviamente perché ormai riconoscete a memoria questa casetta e quando ci sono è per forza Serie di sopravvivenza, raggio, compari? Raggio, compari? Ok, eccolo qui, si era un attimo inceppato il raggio del beacon Quando entro nel mondo c'è sempre sto problema che il beacon non si carica subito E tipo lo devo guardare, tipo incagnesco, lo guardo male e dico Accenditi ora, oppure ti distruggo e non penso gli interessi molto, quindi è tutta una cazzata Comunque siamo qui ragazzi, e ho anche fame, per cui potrei finalmente togliermi di mezzo questa torta Che ormai è l'emblema del marcio, cioè è qui veramente da mesi Però mi mangerò del pollo, come sempre, questa rimarrà qui, perché sì, perché va bene così È notte ovviamente, quindi andiamo anche a dormire E che cosa faremo in questo episodio ragazzi? Siamo diciamo in un episodio di passaggio, come capita spesso tra un progetto e l'altro Vorrei occuparmi però in questo episodio e magari, tra l'altro, mi avete detto saluta ogni tanto Jack e Sally Vedete? Sally, Jack, li potrei salutare ma non lo farò, quindi andiamo avanti Mi vorrei occupare un po' della base, vorrei rendere più bella la base Come? Ci sono tante idee ma allo stesso tempo non so quanto siano valide Comunque ne parleremo tra pochissimo perché ero sceso Che cosa dovevo fare qua giù? Non mi ricordo più ragazzi Ah, giustamente, devo riparare gli attrezzi perché ragazzi abbiamo fatto gli attrezzi nuovi neanche troppo tempo fa E tra la piramide e tra le varie farm sono quasi finiti quindi devo ripararli Mettiamo il piccone qua dentro, il nostro caro Brick Everest Lo ripariamo subito, l'ascia è praticamente integra quindi Amen E possiamo... non vale la pena di maxare quindi facciamola solo così Curiamo anche la pala, la spada è troppo costosa Quindi come vedete la spada è quella che è Quando finirà sarà finita per sempre E andrà nel suo degno posto di fianco all'azzammato che risiede lì sopra in un'armeria Comunque ragazzi che cosa vorrei fare oggi? Vorrei impostare quantomeno la costruzione di una fontana all'interno della base Perché come vi dicevo vorrei abbellire il panorama di questa base Abbiamo fatto tante cose nel corso del tempo Per esempio la stanza dei segreti che mai è stata aperta e mai lo sarà E poi abbiamo fatto una stupenda nave che è proprio... è bella quella nave, è bellissima C'è la statua lì, c'è la base qui con tutti gli anelli e i pianeti C'è la iron farm che fa schifo che un giorno sposterò sicuramente Cioè non è che faccia schifo, va bene, fa il suo dovere Però non è esteticamente gradevole messa qui, onestamente parlando La dovrei magari camuffare con qualcos'altro Però ci penseremo E comunque appunto ho fatto tante cose in giro Abbiamo questa skyline di torri con il nostro grattacielo dell'elitra E il faro che non è così alto Abbiamo la casetta, la nostra prima casetta, l'isola volante Insomma ci sono tante cose ma rimane un po' spoglia qua al centro Quindi dentro la base stessa non c'è nulla E quindi vorrei fare qualcosa per correggere questo vuoto essenzialmente Avevo varie idee come per esempio quella di fare un albero gigante qui nella foresta Che è una cosa che si potrebbe fare se a voi piace l'idea Tanto adesso abbiamo la farm di legno Dovremmo solamente procurarci un bel po' di fogliame in qualche modo E vorrei fare una fontana Cercare di fare una fontana in mattoni di pietra Un attimo carina per decorare diciamo il centro della nostra base Qui dove abbiamo lo storico cartello no Eren metti la mappa in download no Ho fatto anche la pixel art Però non serve a niente perché tanto non ci passiamo mai Quindi la gente se non ha visto i primi episodi Non nota neanche questa cosa Quindi è un po' inutile Qui abbiamo la nostra pozza con il cavallo che sta sempre qua dentro Qua spawnano i cavalli e si mettono a fare il bagno in questa pozza d'acqua Potrei farla qui la mia fontana E potrei farla togliendo anche questo no Che ormai è storico però allo stesso tempo ha un po' perso di utilità Quindi lo potrei togliere Però so che vi dispiacerebbe un casino allo stesso tempo Quindi magari non lo togliamo Però sigilliamo questa pozza Che è praticamente un inferno per i cavalli che ci muoiono dentro E potremmo farci qui una bella fontana Per cui ragazzi nel mentre mi appropinco a sigillare per sempre questa pozza d'acqua inutile Ditemi se... Cioè vi dispiacerebbe se tolgo il no Perché veramente a sto punto non ha senso tenerlo E non è neanche gradevole da vedersi Quindi potrei toglierlo tranquillamente Ma insomma ditemi voi perché so che magari è una cosa storica Quindi potrebbe anche dispiacere Fatemi sapere se vi dispiace se lo tolgo Se non vi interessa nulla Tipo lanciamo un hashtag Sì al no o no al no Cioè sì ok Lasciate perdere perché sembrano i referendum in Italia Dove ti dicono Metti sì per dire no Qualcuno si ricorderà il famoso Metti sì per dire no al nucleare Insomma tutte le doppie negazioni Perché se le inventano tutte Pur di incularti e farti dire la cosa sbagliata Comunque ciao cavallo sei finalmente libero E non parliamo di politica che è meglio Però ragazzi avete capito il senso Ditemi semplicemente se vi dispiacerebbe se lo tolgo Oppure no Nel mentre noi adesso sigilliamo tutto Con della terra E qua copriamo anche il ghiaccio Tanto non ci interessa E non ho abbastanza terra purtroppo Quindi me la devo prendere da qualche parte Da dove però Potremmo prenderla Scavando tipo un mini tunnel qua sotto Non se ne accorgerebbe mai nessuno È un po' brutto da fare però Dovrei Eh se no usciamo un attimo nella foresta La prendo da lì Faccio prima Ok ho praticamente finito qui Il cavallo è stupido Cioè non se ne vuole andare da Da questo luogo Gli manca la sua puzza d'acqua Ma io dico Sei sempre lì Che non riesce ad uscire Adesso che ti ho tolto l'acqua Te ne vuoi andare un attimo O ti devo accoppare Perché Cioè arriviamo a questo a sto punto Non farmi uccidere i cavalli Vattene per carità del cielo Ma Ma perché è scemo sto cavallo Ma te ne vai da qui Vabbè ho capito Mi spiace Perfetto ragazzi L'ho invitato gentilmente A uscire dalla mia proprietà Ed è andato via sulle sue gambe Non gli ho fatto nulla di male Tranquilli Comunque abbiamo finalmente appianato Questa area Con La terra che è abbassata Quasi pelo pelo La fontana dunque Come la andremo a fare La faremo esattamente qua dietro E tra l'altro è notte Quindi forse tra poco converrà anche Passarla in casa Comunque L'intenzione È quella di fare Un sacco di mattoni di pietra Perché Non so Per una fontana Mi sembra Il materiale più adatto Quindi ne faremo Un bel po' Eccoci qui Iniziamo facendo Un'area Diciamo Circolare Con dei gradini Che potrebbe essere Larga Sette Per esempio Quindi magari partendo da qui Mettiamo Uno Due Tre Poi lasciamo appunto i sette blocchi Tre Quattro Cinque Sei Sette E si finirebbe però qua sopra Per cui di nuovo Il no In effetti lì è un po' in mezzo alle palle Perché non mi permette di fare le cose come voglio Però forse sarebbe un po' troppo Facciamolo un attimo più piccolo Facciamo Una larghezza interna di cinque Quindi quattro cinque E al sesto blocco mettiamo questi Poi da qui Facciamo più o meno la stessa cosa Quindi Andiamo qui Ne mettiamo altre di scale E andiamo Esattamente qui Ne mettiamo altre Le ho già finite Ok Facciamole al volo E completiamo questo contorno Perché sarà diciamo La classica fontana Con una forma circolare Ovviamente non è possibile fare i cerchi in minecraft Facciamo così E cerchiamo più o meno Di fare qualcosa di simile circolare Quindi Come al solito Con gli angoli di questo modo Una cosa di questo tipo Perfetto A questo punto All'interno Sarà poi riempito tutto d'acqua A parte Il pezzo centrale Dove Spunterà La nostra Fontana in sé per sé Quindi la struttura Dalla quale poi sgorgerà l'acqua Quindi esattamente Al centro Iniziamo a mettere un blocco E con questo blocco Dobbiamo ovviamente salire E fare qualche Ghirigoro Particolare Quindi iniziamo a salire Di Un po' di blocchi Tipo Una cosa così Ci potrebbe Bastare Ma non proprio Sarebbe un po' piccolina Devo fare anche altre scale Tra l'altro Iniziamo a mettere Per esempio Dall'islab In questo modo Quindi Attorno A croce In modo che siano Appena sopra La superficie Dell'acqua E poi Qui Ho bisogno appunto Di fare Qualche forma Particolare Quindi magari Potremmo metterci Subito Degli scalini Così Rimangono un po' Sollevati Però mi piace L'effetto che fa Questa Dinamicità Che creano No Rimangono di mezzo blocco Sollevati Ci potrebbe stare Come cosa E poi Però Prendiamoci anche Un attimo Della terra Devo fare Una forma Che magari Si va un po' Ad allargare Quindi mettiamo Degli scalini Girati In questo modo Poi magari Andranno un po' A stringere Facciamo insomma Delle forme Un attimo Particolari Non deve essere Ovviamente Una roba Piatta Schifosa Ma deve avere Un suo senso Una sua bellezza Quindi facciamo Così Ovviamente Non riesco a mettere Mai tutte le scale Bene al primo colpo Perché se no Il tempio Delle scale Girate Non servirebbe A nulla E ogni tanto Ci dovrei fare Una visita Mi sa Ecco Qua si è formata Questa piccola superficie Potremmo mettere Degli slab In questo modo E poi Però ne mettiamo Altri Negli angoli Però alzati Quindi facciamo Il lavoro così Boom Boom Quindi sono tutti Alternati Qua togliamo un attimo E rimettiamo Quello in basso In modo da Completare Questa piccola Composizione Poi mettiamo Un altro blocco qui Un altro così E chiudiamo Nuovamente Con le scale Magari facendo Ancora qualcosa Di particolare Che potrebbe essere Potrebbe essere Allora Qui mettiamo Non così Mettiamo Degli scalini Normali Quindi In questo modo E al centro Li mettiamo Tutti normali Così Quindi Anche qua Qua E qua Ma se ora Li mettessi Girati agli angoli Quindi gambe per aria Come verrebbe Verrebbe una cosa così Purtroppo Non si forma All'angolo Quindi li devo fare Rivolti verso questo lato E dall'altra parte Saranno rivolti Dal lato opposto Quindi così E Così Non riesco a metterlo Mai nella vita Così Perfetto Ok È abbastanza Strana Da vedere Come cosa Forse perché Si va a allargare Un po' troppo Rispetto alla base Che è un po' più esile Però potrei anche Sfruttare Una forma di questo tipo E farla ancora più Larga in cima Dobbiamo però Fare i punti In cui Uscirà l'acqua Quindi Torniamo un attimo Su E Facciamo che ovviamente L'acqua Sgorgerà Da Quest'altezza Quindi mettiamo Da questo punto Da questo punto Mettiamo delle sorgenti In questi angoli E facciamo in modo Che poi Sgorga verso il basso Mettiamo Mettiamo Vediamo Un po' di Sleb Qui In modo da Incanalare Per bene l'acqua E qui sopra Chiudiamo in qualche maniera In modo da Perché c'è uno scheletro In casa mia Eh Che è tutto illuminato Come fai a spawnare Stronzo Muori subito Ho detto di morire subito Dove sei finito Eccolo qui Ovviamente Mi vuole buttare giù Ah che palle Di scheletri In 1.9 Ragazzi Sono veramente Dei clienti Tosti Però è già morto È morto bruciato Sì mi sa di sì Ma sì ma buongiorno C'è passate pure tutti Guardate lo scheletro È rimasto qua Ma che merda Che sei Dove è finito Oh ma come ti permetti Di vadermi la casa Così Mamma mia Che palle Sti Mob Allora Dicevamo La sorgente d'acqua Va Qui La faremo Sgorgare Da sotto Questi scalini Quindi una cosa Di questo tipo Me ne manca uno Lo potrei fare al volo No Devo scendere giù Per forza Prendere la crafting E fare un altro scalino Che andrà In quell'angolo lì Mancante Solo che così Non mi piace Voglio fare Quelle robe lì Che sporgano un po' di più Cioè quelli scalini lì Che abbiamo appena messo Li voglio far sporgere di più Quindi troviamo un modo Rispacchiamo Questi E ce li riprendiamo al volo Li devo far sporgere di più Come si può fare Iniziamo Oh tra l'altro piove Perfetto Non è che puoi già riempire la fontana Pioggia almeno Fai qualcosa di utile Al posto che rompere le palle Basta No ovviamente no Comunque facciamo altri slab In questo modo E torniamo su E rimettiamo gli scalini Come prima Però in modo che Sporgano Così Ehm Nope Devo metterli No da sopra non riesco Perché si parla di mezzi blocchi Qui quindi devo tipo Fare Così Ah che fatica E metterli così Perfetto Ce la stiamo facendo Dai Ho bisogno di vederla Con l'acqua Perché così Non riesco bene A inquadrarla Quindi facciamoci un attimo Una sorgente D'acqua infinita Qui Ci mettiamo Una sorgente Qui E andiamo un attimo A recuperare il ghiaccio Eccolo qua Sotto Perché è troppo Perché è troppo Stretta E strimizzita Proviamo ad allargare Un attimo Ok gli ho aggiunto Qualche dettaglio in più Con questi pilastrini laterali Che sembrano un po' Levitare Vedete ci sono questi Massi Alzati in maniera Mistica Tra virgolette E già la preferisco L'unica cosa Che correggerei È la punta in cima Quella punta lì Non mi piace Cioè È strana Quindi adesso Cerco di rifarla un attimo Con calma Ho anche allargato Qua sotto E purtroppo Il no È definitivamente In mezzo ai coglioni Cioè Non ti permette Di vedere frontalmente La fontana Il che dà un po' Fastidio Ma d'altronde La fontana La volevo fare lì Un po' Per Richiamare La pozza d'acqua Che c'era prima Che adesso Non c'è più E anche un po' Per nascondere La rotaglia dietro Che non è proprio Il massimo Della bellezza E infine ragazzi Questo è il risultato Quindi ho allargato Anche in cima Ho fatto una Cosa Che avvolgesse Di più La sorgente d'acqua Perché sembrava Proprio sporgere Dal nulla Invece qui Vedete Sembra che Esce tipo Dal centro Della struttura E poi scorga In questi Diciamo Quattro pilastri Verticali Di acqua E poi lì Ho messo Degli slab Sollevati Per richiamare Un po' Queste strutture Laterali E tutto sommato Così Mi piace Come sempre Iniziamo le cose All'inizio Mi fa schifo Poi aggiungo Un dettaglio E diventa Di mio gradimento È un po' Complicata Però Mi piace Mi piace Vedere una fontana Così Detto che Comunque Ragazzi Il no Il no è proprio In mezzo Le palle Purtroppo Sarebbe Tutto molto più bello Senza questo no Potremmo anche Spostarlo Per carità Comunque Fatemi sapere Che cosa ne pensate Per questo coso E anche per la fontana Se vi piace Oppure no Quindi ragazzi Per questo video è tutto Dobbiamo anche decidere insieme Cosa fare Nelle prossime puntate Io come sempre Ho una lista Molto ampia Di cose da fare Però Quando hai tante alternative Non sai mai bene Cosa decidere Però vorrei buttarmi subito In qualche progetto importante Abbiamo fatto La farm di alberi Potremmo sfruttare anche Il legno Per fare qualcosa di legno Quindi magari Un albero gigante Come ho detto prima O comunque Se volete suggerirmi qualcosa Come sempre Scrivete L'hashtag Eren costruisci Così io poi Cerco per bene E vediamo un po' Le idee che piacciono di più Detto ciò ragazzi Io vi saluto Ci vediamo presto Con altre puntate Quindi un saluto Da Eren Blaze Ciao a tutti E piove Nuovamente E beh Concludiamo proprio Con la La ciliegina Sulla torta La ciliegina